Con il termine collaboration si intendono le tecnologie e le soluzioni che permettono di avere accesso a informazioni e a persone in ogni luogo e in ogni momento. L'industrial collaboration altro non è che l'applicazione delle tecnologie di collaboration all'ambito industriale. Stiamo registrando infatti una forte volontà di modificare il modo in cui si lavora nella linea di produzione. Servono maggiori velocità nel prendere decisioni, maggior coordinamento fra team molto spesso distribuiti geograficamente e l'accesso rapido a informazioni non presenti in azienda. Gli ambiti di utilizzo dell'industrial collaboration maggiormente richiesti sono Remote Expert, che serve per avere accesso a informazioni non disponibili localmente. Connected R&D, là dove serve condivisione di informazioni fra produzione e ricerca e sviluppo. Collaborative Supply Chain, in cui la collaboration viene utilizzata per facilitare le interazioni fra i vari attori di una supply chain. E Collaboration Uomo Macchina, in cui le tecnologie di collaboration si utilizzano per semplificare le interazioni fra esseri umani e sistemi automatici. La collaboration può avere un grande impatto nell'ambito industriale, modificando significativamente il modo in cui si lavora all'interno di un'azienda e all'interno di una filiera di fornitori. Anche la collaboration tra uomo e macchina è destinata ad avere grandi sviluppi nei prossimi mesi e cambierà in maniera definitiva il modo in cui ci si rapporterà alle macchine industriali. Anche la collaboration tra uomo e macchina è destinata ad avere grandi sviluppi nei prossimi mesi